benvenuti sono il professor francesco misiti presidente del centro dell'orientamento e docente di questo ateneo il centro orientamento cosa è è un servizio che all'ateneo offre agli studenti degli ultimi anni della scuola secondaria ma non solo anche agli studenti già iscritti al nostro ateneo l'obiettivo delle nostre attività è di fornire gli strumenti utili a una scelta consapevole del futuro percorso universitario per gli studenti già iscritti le attività di tutoraggio sono finalizzate al contrasto della dispersione universitaria e alla scelta dei percorsi universitari di secondo livello da marzo 2020 causa l'emergenza sanitaria tutte le nostre attività vengono erogate in modalità online ma appena sarà possibile vi aspettiamo numerose e numerosi nelle nostre aule le attività svolte dal centro sono molteplici organizziamo eh e partecipiamo agli incontri di orientamento che si svolgono negli istituti secondari superiori o presso l'ateneo per far conoscere l'offerta formativa unica si incontra una finestra mensile nel quale i docenti dei cinque dipartimenti incontrano gli studenti l'open day e l'open week dei dipartimenti importanti occasioni per conoscere l'offerta formativa e le attività di ricerca svolte nei laboratori i servizi offerti parlare con i docenti con gli studenti e con i laureati di successo del nostro ateneo i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sviluppati in collaborazione con le scuole del territorio gli sportelli di orientamento e tutorato ogni anno da luglio a novembre i migliori studenti dei nostri corsi di studio magistrali forniscono informazioni e chiariscono i dubbi agli studenti della scuola secondaria partecipiamo inoltre ai saloni nazionali di orientamento nel 2020 è stato allestito un nuovo portale dell'orientamento unicas orienta punto unicas punto it che contiene le presentazioni dei corsi di studio i video le testimonianze dei laureati materiale informativo e tanto di più siamo anche sui social e dall'altro anche su youtube per qualsiasi chiarimento il centro orientamento si trova presso il campus campus volcara il personale del centro laura letizia adele e massimiliano ricevono tutti i giorni anche online vi aspettiamo